salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo video andremo a vedere dopo quasi 300 ore di gioco quella che è la mia classe preferita ho provato ogni classe ogni genere di abilità di arma eccetera e alla fine mi sono deciso la mia classe preferita è il ladro come potete vedere da queste immagini sin dalle prime ore di gioco capiremo presto che tutto l'intero gioco ha una componente comune tanti nemici piccoli un nemico grande tutto il gioco è così sia nella storia nei dungeon girando per la mappa sarà sempre è comunque così tanti nemici piccoli e uno grande purtroppo a seconda della classe lo capiremo presso a nostre spese sembra quasi che abbiamo per forza bisogno delle pedine perché a seconda della classe potremo affrontare bene certi nemici e male altri ed è questo il mio problema a me piace giocare da solo non mi piace aver per forza bisogno di un'intelligenza artificiale o di qualche amico online e alla fine dopo tantissime prove mi sono deciso la classe secondo me più equilibrata rimane il ladro e ve lo voglio spiegare io lo so benissimo che ci sono altre classi forti lo so bene che l'archer mago sciotta i nemici però sprecando la vita e questo non mi va bene so benissimo che lo stregone fa dei danni a dare incredibili però è molto lento se cadiamo in un'imboscata buonanotte non vi mettete lì a fare sisma se siete circondati da goblin so benissimo che anche il cavaliere mistico è fortissimo contro i piccoli nemici e li fa fuori in un attimo però ha dei seri punti deboli come ad esempio le arpie che stanno fuori dagli scogli non ci mettiamo lì a volare contro le arpie perché cadiamo giù dagli scogli oppure non toglie così tanta vita ai nemici molto molto grandi ciò che rende così speciale il ladro è la sua tecnica speciale accelera al massimo la velocità di reazione permettendo di evitare attacchi di tutti i tipi da parte dei bersagli ostili consuma resistenza mentre attivo vale a dire che fin quando questa abilità è attiva noi siamo degli dei niente nessuno ci può toccare nessuna tecnica o abilità possiamo farci male si cadendo cadendo nell'acqua ma i nemici non ci possono fare nessun tipo di danno la cosa più bella in questa abilità che consuma pochissima resistenza e può essere accumulata da altre abilità quindi mentre noi abbiamo la finta intangibile attivata possiamo utilizzare qualsiasi altra abilità ancora ci sono altre abilità che ci rendono invulnerabili ma nessuna dura quanto questa non solo visto che consuma e resistenza noi possiamo prenderci dietro degli oggetti che ci ridanno la resistenza possiamo andare avanti così all'infinito questa abilità non è istantanea ma ci vende davvero poco ad essere attivata è la cosa più bella che la possiamo prendere sin dalle primissime ore di gioco appena siamo liberi che arriviamo al castello noi possiamo già andarla a prendere non siamo obbligati ad attivare nessuna missione basta che noi andiamo nel villaggio senza nome andiamo nel sottosuolo parliamo con strill e ci darà il manuale del ladro poi ci basterà attivare il rotolo andare in una gilda qualsiasi e inserirlo tra le nostre abilità da avere con il personaggio non dovremo neanche comprarlo nel momento in cui attiviamo il rotolo è già attiva dovremmo solo associarla a un pulsante di utilizzo poi ci sono altre abilità fortissime ora che siamo invulnerabili è molto più semplice ad esempio fare sventramento o successivamente alzandoci di livello con il ladro si chiamerà squartamento è una tecnica che se colpiamo il punto debole toglie davvero un macello di vita ma anche se non becchiamo il punto debole giusto e un punto qualsiasi del nemico toglierà comunque tanta tanta vita è una tecnica per i boss in quanto ci dovremo arampicare dovremo afferrarli i nemici per poter attivare questa tecnica se ad esempio la usiamo sull'occhio di un ciclope quasi sicuro lo sciottiamo l'altra tecnica importante è l'aguato che inizialmente si chiamerà trannello vediamo il nostro personaggio come cerca di catturare il nemico questa tecnica indispensabile per i nemici volanti a una distanza secondo me più che giusta e riusciamo a prendere tranquillamente le erpie ma è anche utile ad esempio da usare contro i nemici quelli tipo una specie di cocodrillo che è come un crostaccio che è veramente forte ecco se usiamo l'aguato su di loro molto spesso riusciamo a ribaltarli così hanno la pancia scoperta e riusciamo a colpirli ecco questo è il nemico diciamo più difficile per il ladro perché è ben corazzato però per fortuna non è un boss e si fa alla fine si fa fuori lo spacca elmo che in seguito si chiamerà spacca teschio è una tecnica molto molto forte incredibilmente forte toglie davvero tanto vediamo il nostro ladro che rotea e sfera un sacco di colpi i nemici più piccoli se li becchiamo li sciottiamo mentre ai grandi facciamo dei danni mostruosi queste sono le abilità armi del ladro da avere dietro e come ciliegina sulla torta abbiamo r1 che è la manovra evasiva molto divertente perché possiamo prendere alle spalle il nemico e ci arriveremo in seguito del perché è importante arrivare alle spalle del nemico ora vi farò vedere le capacità di cui può trarre beneficio il ladro come ad esempio la polarità che aumenta la forza di giorno discrezione riduce la probabilità di essere presi di mira dai nemici ed è molto interessante questa più più di molte altre letalità aumenta i danni inflitti quando si colpiscono i punti vitali del bersaglio questa per quanto poco può essere il guadagno è interessante perché noi andiamo in un modo in un altro se spesso o quasi sempre andiamo a colpire i punti vitali del bersaglio brio aumenta la forza questa se la volete potete anche cambiarla ci ho messo tanto a sbloccarla ma aumenta la forza di 30 tenace aumenta la tua resistenza massima queste invece i benefici si vedono qui non è un numero finito ma una percentuale a me piacciono le percentuali perché mano mano che noi saliamo di livello sale anche la resistenza in questo caso poi c'è l'esaltazione aumenta la velocità di recupero della resistenza che è un valore abbastanza basso e si può secondo me cambiare e l'altra importante è zelo dell'eroe leggendario e riduce la resistenza consumata quando usi un'abilità ecco la resistenza si viene consumata del 10 per cento anche qui potete farne meno quindi se volete alcune si possono cambiare ad esempio se volete cambiare non so per metterci magari un valore aggiuntivo alla difesa o portare più peso potete cambiare secondo me polarità brio e zelo queste tre potete mettere quello che volete però io lascerei discrezione letalità e tenacia come aiuto se volete potete mettere come me lo stregone perché ha dei danni ad area incredibili e funzionano sia sui gruppi di nemici piccoli ma soprattutto sui boss e pioggia di meteore e vortice sono le abilità le tecniche segrete dello stregone e potete trovarle tra i miei video ma se non ce l'avete dice dite no io sono non le voglio sbloccare sono indietro eccetera dove 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 sisma è molto eccola qui sisma è molto molto forte purtroppo la pedina non usa come avrei voluto con conservazione avanzata che permette di effettuare un incantesimo e memorizzarlo per poi usarlo in seguito invece la pedina non lo fa quasi mai quasi inutile però l'ho messo le altre due pedine io ve ne consiglio solo una che è il mago importante che abbia l'affinità del fulmine quindi quando cercate la pedina potete mettere per abilità armi e cercatela con affinità di fulmine e l'ultima pedina come volete quello che preferite però il mago secondo me quasi indispensabile in questo gioco perché cura per quanto riguarda le armi non volevo usare un'arma endgame quindi ho comprato l'arma back battle quella che mi sembrava più interessante e l'ho maxata ho preferito un'arma senza un potere aggiuntivo in quanto l'affinità del fulmine che userà il mago su di noi ci darà già un'affinità e non ne possiamo avere due il resto dell'abbigliamento non ha importanza perché per la difesa non aiuta il ladro ad avere più forza quindi tanto vale mettere sopra qualunque cosa ciò che sono molto importanti sono gli anelli ho provato gli anelli che danno dei bonus in base al peso ma a quanto pare non funzionano non so se è un problema che verrà aggiustato in futuro ma per adesso non funzionano invece funzionano molto bene l'anello del fervore e l'anello della furfanteria l'anello del fervore da un bonus fisso di 30 e si può comprare dal venditore che lo troviamo appena entriamo a melve se no se si è spostato da lì lo possiamo trovare anche al castello vicino a dove prendiamo i buoi sempre per andare a melve invece l'anello della furfanteria credo che sia l'anello più forte del gioco quanto meno il più forte sicuramente da usare con il ladro da un bonus del 20 per cento e funziona veramente se colpite il nemico alle spalle e qui entra in scena il famoso pulsante r1 che voi schivate potete andare alle spalle del nemico è incredibile tipo beccate il nemico con lo scudo usate r1 vi spostate dietro di lui e dopo li togliete il 20 per cento un macello e funziona anche sui boss l'anello della furfanteria purtroppo lo possiamo prendere a un livello molto avanzato si può prendere tranquillamente in un baule ma a livello avanzato come ciliegina sulla torta e poi vi lascio il top è andare nel campeggio andare a riposare e vi fate un bel piatto una bella grigliatina una bella bistecchina che vi dia un bel bonus in attacco lì ragazzi davvero con la finta intangibile con un danno elevatissimo passate in mezzo al gioco diventa tutto burro davvero sciogliete ogni cosa che beccate sul vostro cammino poi certo ci sarà sempre quello che mi verrà dire sai c'è la tecnica che usa il mio cugino che spazza tutti no qui puoi spazzare qualunque cosa dall'inizio alla fine del gioco punto e questo è quanto ragazzi eccoci arrivati alla fine del video spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile grazie a tutti per la visione vi auguro una buona giornata grazie a tutti Surtillando il suo posto non mi piace, ma può farlo. Ora, il suo posto è vero! Do not waste this chance Press home orange Strike fast and shoot And our squad shall fall Focus A moment of decision is Let it go Let it go